Mettore di ContiG News, siamo qui orgogliosamente con il sindaco di Viella, Marzio Rivero. Marzio Rivero, avete appena composto la nuova giunta, come si sente innanzitutto con questa sua composizione e un messaggio ai suoi cittadini? Beh, sono assolutamente soddisfatto in questi giorni di confronto con tutte le porte politiche e civiche che hanno sostenuto la mia candidatura, abbiamo fatto un po' sintesi di quelle che erano le esigenze, delle figure necessarie per poter svolgere pienamente quello che è il nostro programma. Sono soddisfatto degli assessori che compongono la giunta per la loro professionalità, per il loro profilo, per le loro competenze, per la loro esperienza e quindi il messaggio a favore degli elettori, non può che essere che siamo partiti con il piede giusto, con una squadra assolutamente pronta a realizzare il programma che ci siamo proposti di realizzare. Benissimo, sappiamo benissimo la tua vocazione verso il bene comune. Per i cittadini, magari per quelli che non ti conoscono rispetto a noi, che cos'è per te il bene comune e cosa significa per te la vocazione alla politica? La vocazione alla politica e il bene comune hanno elementi assolutamente vicini e affini. Per me significa assumere impegni, responsabilità, dedicare tempo e dedizione all'amministrazione della città e quindi al bene collettivo. L'ho sempre interpretata quasi così e sempre la interpreterò in questi termini. Bene, noi ringraziamo, vengo al primo cittadino di Biella, nonché amico, mi permetto, Marzio di Vero e a voi tutti, buona giornata! Andiamo a tutti! Grazie a tutti.